...gli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta delettivi ai bonus edilizi. Una novità assoluta, quindi invito il collega Feno ad illustrarla. Ah no, l'intervento della Raffa, sì certo, non lo so. No, sono stupito che non interveniavano la Raffa Feno. Grazie Presidente. Nel corso di diverse edizioni informali l'Agenzia delle Entrate ha fornito i dati in merito al fenomeno della circolazione dei crediti da bonus edilizi. E gli ultimi dati disponibili risalgono al 30 agosto 2023. A tale data dall'ammontare delle cessioni degli sconti in fattura rilevati a partire dal 15 ottobre 2020 ammontava complessivi 146,8 miliardi, di cui 93 miliardi riferibili al super bonus nelle due forme del super eco bonus e super sisma bonus. I restanti 53 miliardi hanno invece ripartito tra i restanti bonus edilizi compito di valenza per il bonus facciato eseguito dai co bonus e bonus di istrutturazioni ed al sisma bonus. Quanto all'utilizzo in compensazione dei detti bonus, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il dato complessivo dei crediti già compensati tramite F24, pari a complessivi 23,2 miliardi di euro al 30 agosto 2023, senza specificazione tra le varie misure. Si rende necessario quindi acquisire dati aggiornati, con particolare dati di riferimento al super bonus e all'utilizzo dei crediti in compensazione ai fini delle conseguenti valutazioni politiche. Pertanto noi chiediamo al Governo quale sia ad oggi l'ammontare degli interventi edilizzi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti in posta, distinguendo i dati per tipologia di bonus e con specificazione per ciascuna tipologia di bonus ed in particolare per il super bonus, nell'ammontare annuo dei crediti che sono stati già oggetto di compensazione in F24, rispetto al totale dei crediti in posta maturati. Grazie. Grazie, invito il Governo a rispondere. Grazie Presidente. Dunque, non riprendo quelle che sono le richieste degli onorevoli interroganti, ma a riguardo sentire i componenti uffici rappresentiamo quanto segue. Con riferimento al primo quesito, quanto all'ammontare delle detrazioni anno per anno, ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 20 e 21. Non risultano invece ancora completi i dati relativi al 2022, in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno ovviamente disponibili all'inizio del 2024. Per quanto riguarda il 2020 abbiamo i dati in milioni di euro, super bonus 512, bonus facciate 1431, nel 2021 super bonus 16157, bonus facciate 19.686. Con riferimento al secondo quesito, vi è una tabella legata dove sono indicate le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, rilevate dalle comunicazioni fiori inviate all'Agenzia delle Entrate, essenzialmente l'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra super bonus e altre tipologie di bonus. Nel medesimo file, nel medesimo prospetto, è indicato l'ammontare dei crediti di cui è al punto precedente, che sono stati finora utilizzati in compensazione tramite F24, specificando altresì l'importo delle rate fruite del 2023 e l'ammontare delle rate residue dello stesso anno. Questo sarebbe il terzo quesito. Con riferimento al quarto quesito, l'Agenzia delle Entrate fa presente che la distinzione dei crediti in base al settore economico di appartenenza del gestionario, ossia costruzioni bancario e assicurativo, richiede specifiche elaborazioni piuttosto complesse che sono in corso di completamento e mi faccio carico, insomma, di poterle fornire non appena disponibili. Per quanto riguarda poi la stima prudenziale della capienza fiscale residua dei soggetti che detengono i crediti, per questo l'azienda segnala che non è possibile determinare con sufficiente attendibilità la capacità di un certo soggetto di assorbire compensazioni in bonus edilizia ai fini del pagamento dei propri debiti fiscali e contributivi, in quanto ciò dipende da caratteristiche peculiari soggettive e propensioni individuali che non sono note. Infine si evidenzia che non è parimenti possibile determinare la quota di crediti ancora classificabili come incagliati, che è riferimento al quesito numero 5, in quanto l'Agenzia delle Entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi. In altre parole non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite F24 oppure perché non trove altri soggetti disponibili ad acquistarlo. Grazie. Grazie onorevole Albano. Onorevole Raffa, prego. Oggi mi state facendo gli scherzi voi. Grazie, grazie Presidente e anche ai colleghi per avermi dato la possibilità di esporre per primo il question time. Ringrazio la sottosegretaria anche per la disponibilità e integrare le informazioni che ci ha fornito. Questa richiesta non è una novità, però noi continuiamo a reiterarla perché non è neanche una novità l'atteggiamento della Presidente del Consiglio in primis, ma anche di altri membri del Governo, di continuare a demonizzare con cifre, 140 miliardi e 150 sono le ultime, sono quelle più aggiornate, che vengono diciamo dette in televisione senza poi andare a specificare niente. Ad agosto in realtà di tutti questi investimenti, questo buco, queste detrazioni da centinaia di miliardi, quello che si è utilizzato di tutti i bonus, per questo abbiamo chiesto la specifica, di tutti quanti i bonus in F24, quindi quello effettivamente usato, è stato 23 miliardi, di questi 23 miliardi lo Stato ha già incassato 13 dal PNRR per coprire il super bonus in particolare, per questo ci interessava avere il dettaglio, giustamente lei non l'ha detto perché c'è la tabella, quindi andrò a vederlo, di quello che è stato utilizzato effettivamente in F24 sul super bonus, quindi continuo a suggerire di smetterla di demonizzare una misura che nonostante tutto quello che si è detto, l'effetto sul bilancio dello Stato ancora non l'ha avuto perché è di oggi l'agenzia che Banca Italia ci dice che anche a settembre le entrate tributarie continuano a crescere del 5,7%, quindi questi crediti incidono sulle entrate perché riducono le entrate, ma le entrate continuano a crescere e quindi in realtà il problema è molto molto relativo. Quindi suggerisco di cambiare atteggiamento perché il vero problema è quello esattamente opposto, non ci sono più misure che sostengono le imprese e la crescita e poi le conseguenze ce le illustrate ieri, credo il Ministro Giorgetti, saranno i default di sistema, queste sono le sue parole. Grazie. Grazie mille onorevole FENU. Allora passiamo all'interrogazione 501624 Borrelli, interventi per potenziare disposizioni sulla tassazione degli extraprofitti bancari. Prego l'onorevole Borrelli. Grazie Presidente. Il settore bancario italiano che durante la pandemia ha potuto contare su una forte crescita delle liquidità pari a 256 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021 solo in termini di depositi sui conti correnti ha registrato, grazie al miglioramento del margine di interesse, un aumento della redditività pari stando ai dati riportati dalla Fabia circa 43 miliardi e 431 milioni di euro di utili netti nel solo anno 2023, soprattutto per effetto di un rapido adeguamento alle decisioni di politica monetaria del BCE, degli interessi sul credito erogato alla clientela, che non stanno trovando un altrettanto solerte adeguamento degli interessi riconosciuti alla clientela. Sempre secondo il Sindacato Fabi il suddetto risultato sarebbe superiore di ben 17,2 miliardi più 70% rispetto ai 25,4 miliardi di utili del 2022 e quasi il triplo se confrontati con il quinquennio precedente. La stagione dei conti trimestrali dimostra nei fatti che gli effetti prodotti sul conto economico delle principali banche italiane sono stati strabilianti. A soli tre mesi dalla fine del 2023 le banche sembrano essere già ben equipaggiate per affrontare la fase finale di chiusura dei conti ed utilizzare la leva del margine di interesse come cuscinetto per il possibile rallentamento dell'economia atteso per il 2024. L'insieme di questi elementi ha determinato il Governo a introdurre la tassa sui extraprofitti, legittimamente classificabili come tali in quanto frutto di circostanze esterne che nulla hanno a che fare con la buona gestione delle banche o con la loro normale attività, ma che a causa delle facoltà esplicitamente prevista dalla stessa di optare il luogo del versamento del prilievo per l'accantonamento e riserva non distribuibile per l'importo pari a 2,5 volte l'imposta calcolata, ha nei fatti eluso. Chiudo. Con queste scamotace le banche hanno potuto anticipare quei rafforzamenti patrimoniali migliorando così gli standard di solidità che in prospettiva alla luce del probabile deteriorarsi del credito potrebbero essere suggeriti o imposti dalle autorità di supervisione e vigilanza, rendendo impossibile la maturazione di un importante gettito erariale destinata alla riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. Chiediamo se non ritiene di dover ridare l'originario vigore ad una disposizione quella della tassazione sui extra profitti bancari che nei fatti si è rivelata solo una sterile mediazione con il settore bancario e non ha garantito l'atteso gettito. Grazie. Prego, onorevole Albano. Grazie Presidente. Come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione numero 5 01518 presentata dallo stesso interrogante nella seduta del 24 ottobre ultimo scorso, l'articolo 26 del menzionato decreto legge 104 del 2023 ha istituito un'imposta straordinaria a carico delle banche. All'esito della riscrittura della disciplina effettuata in sede parlamentare la base imponibile del contributo coincide con l'ammontare del margine degli interessi ricompresi della voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 24 che cede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 22. È previsto che l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può avversare il singolo istituto sia commisurato non più allo 0,1% dell'attivo ma allo 0,26% dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 23. La novella parlamentare ha infine introdotto un nuovo comma 5b, ai sensi del quale le banche in luogo dell'effettuazione del versamento della cennata imposta possono destinare in serie di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 un importo pari a due volte e mezzo l'imposta, calcolata ai sensi del presente articolo, ad una riserva non distribuibile a tal fine individuata. Tale modifica consente la sospensione della tassazione prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile che in caso di carenza di utili dell'esercizio o di perdita dell'esercizio può essere alimentata con utili relativi ad esercizi precedenti e successivamente con importi di alto riservo patrimoniale. Tanto ciò premesso si ribadisce che la disciplina dell'imposta straordinaria in argomento è stata ridisegnata in maniera tale da superare alcune criticità evidenziate dal settore bancario contribuendo a rafforzare la garanzia delle liquidità dei depositi dei risparmiatori e lasciando comunque ferma la possibile maturazione di un gettito che confluirà nell'apposito fondo finalizzato al finanziamento delle opportune misure volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie ed imprese. Grazie Onorevole Albano. Onorevole Borrelli per la replica. Sì, io volevo soltanto dire una cosa. Noi sugli extra profitti ovviamente del nostro gruppo parlamentare, l'Alleanza Verde e Sinistra, non soltanto nel campo bancario ma anche in tutti gli altri settori abbiamo fatto un motivo di battaglia pubblica e sociale. Io credo che indipendentemente dalle parti politiche è iniquo che ci siano soggetti imprenditoriali, bancari o di qualsiasi altro tipo che per motivi non derivanti dalle loro capacità e dalla loro bravura, dalla loro visione che può portare a realizzare prodotti strabilianti sul mercato, possono avere degli utili così elevati e non dare una mano e contributo nei paesi dove loro fanno la loro attività. Da questo punto di vista continuo a invitare il Governo perché la tassa, e concludo, era stata prevista. Il problema è che non ha assortito l'effetto che tutti, probabilmente anche lo stesso Governo e la stessa maggioranza, auspicavamo. Grazie. Grazie Onorevole Borralli. Ritorniamo all'ordine precostituito. Siamo all'interrogazione 501622 del Barba. Chiarimenti sull'attuale esposizione complessiva dello Stato rispetto alle garanzie concesse a banche e istituzioni finanziarie. Invito il collega Marattin in qualità di confermatorio dell'interrogazione di Lustarda. Prego Onorevole. Grazie Presidente. Facciamo io e il collega del Barba una domanda estremamente semplice. Come tutti sappiamo durante il Covid, col decreto liquidità dell'aprile 2020, se non ricordo male, abbiamo concesso giustamente allo Stato, tramite SACE e il fondo di garanzia, di offrire garanzie alle banche e istituzioni finanziarie, a loro volta ovviamente per erogare finanziamenti alle imprese in quel periodo drammatico che abbiamo vissuto, sfruttando la finestra consentita dal cosiddetto temporary framework, cioè la modifica temporanea della disciplina dell'aiuto di Stato in seno dell'Unione Europea che dovrebbe scadere a breve. La domanda è molto semplice. Siccome da allora non abbiamo mai avuto occasione di capire com'è andata, chiediamo quante garanzie sono state emesse con questi canali, quindi per quanto è esposto il settore pubblico italiano e se sono state già escusse alcune garanzie e se sì per quale importo. Questo ovviamente perché quando si mettono in campo strumenti così potenti è essenziale fare verifiche frequenti su come stanno andando. Grazie. Grazie. Prego, onorevole Albano. Dunque, si osserva preliminarmente che il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e gli schemi di garanzia pubblica gestiti da SACE stanno continuando a supportare le imprese nell'attuale contesto macroeconomico, ancora caratterizzato da elevata volatilità e incertezza. Gli ultimi dati sull'esposizione complessivamente garantita allo Stato alla data del 30 giugno 23 sono come di consueto ufficialmente riportati nella tabella delle garanzie di cui al documento programmatico di bilancio approvato per il 24 dal Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 23 e trasmesso contestualmente alle Camere. Al 30 giugno 2023 il volume complessivo delle principali garanzie pubbliche, quindi non solo di quelle a supporto delle imprese, ammontava a 305 miliardi di euro, pari al 14,9% del PIL, di cui 158 miliardi di euro pari a circa il 7,7% riferite alle misure emergenziali Covid. 31 miliardi di euro pari a circa l'1,5% riferite alle misure emergenziali energia. 116 miliardi di euro pari a circa il 5,7% riferite agli schemi di garanzia fuori dai regimi di emergenza, il credito dell'esportazione e altri schemi. Per quanto riguarda il fondo di garanzia delle PMI si rappresenta che a seguito della reforma della governance dello strumento intervenuta con legge di bilancio per l'anno 2022, maturando alcuni degli elementi già implementati per gli strumenti SACE, ha previsto che il fondo operi entro un limite massimo di impegni assumibili individuato annualmente nella legge di bilancio sulla base di un piano annuale di attività e di un sistema dei limiti di rischio, entrambi approvati entro il 30 settembre di ciascun anno, dal Consiglio di gestione del fondo e successivamente su proposta del MIMIT di concerto con il MEF, con delibera CIPES. In particolare per l'anno 2023 l'esposizione massima autorizzata in legge di bilancio risulta pari a 222 miliardi di euro, di cui 45 riservati a nuove potenziali garanzie. Inoltre si segnala che, coerentemente al quadro temporario di crisi per le misure di aiuto di Stato, il fondo PMI è stato autorizzato in norma primaria a concedere per tutto il 2023 garanzie entro una misura massima dell'80% a copertura di finanziamenti di importo non superiore a 5 milioni di euro concessi alle imprese per sopperire ad esigenze di liquidità aggravate dal perdurare della crisi energetica e fino al 90% a titolo gratuito per i prestiti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento e diversificazione della produzione e dei consumi energetici. A giugno 2023 l'esposizione dello Stato sul fondo ammontava circa 148 miliardi di euro, di cui 120 riferiti al portafoglio Covid, ampiamente riconducibili entro il preletto limite massimo di 225 miliardi di euro. E' importante osservare che rispetto ai circa 200 miliardi di euro di volumi di richieste di garanzie ricevute dal fondo da marzo 20 a giugno 22, il portafoglio si sta riducendo in linea con le previsioni del gestore che riportava che circa il 70% delle garanzie vedrà la sua scadenza naturale nel bianno 26-27. Passando alle garanzie prestate da Sace prevalentemente in favore alle imprese di media e grande dimensione continua il sostegno, in particolare sullo strumento di supporto Italia per tutto il 2023, ovvero fino alla scadenza prevista del citato quadro temporaneo di crisi, in questo caso con percentuali di copertura fino al 90%, per le esigenze di liquidità delle imprese e derivanti sia dall'impatto dell'incaro delle materie prime energetiche sulle relative strutture di costo, sia correlato alle coperture richieste sul mercato dei derivati energetici. Al 30 giugno 23 Sace ha complessivamente perfezionato garanzie a valere su supporto Italia per un importo totale di circa 20 miliardi di euro, a cui si aggiunge il portafoglio di garanzie perfezionate durante l'emergenza pandemica a valere sullo scama di garanzie Italia, misura cessata il 30 giugno 22 in fase di ammortamento, attualmente pari a circa 22 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle garanzie concesse da Sace, inclusi gli alti scambi anche minori, ammonta circa 47 miliardi di euro, volume che rientra ampiamente nel plafond di potenziale impegno massimo assumibile dallo Stato pari a 200 miliardi di euro, previsto ex legge in relazione alle garanzie concesse a valere sul fondo di quello articolo 1,14 decreto legge 23 del 20, cosiddetto decreto legge liquidità, con lo stanziamento leggermente previsto a copertura del medesimo è alimentato da premi pari a circa 31,5 miliardi di euro. Anche relativamente a garanzia Italia, in fase di ammortamento si deve osservare la progressiva riduzione dell'esposizione statale rispetto a circa 40 miliardi di euro di volume di richieste di garanzie ricevute da marzo 2020 a giugno 2022. Le escursioni risultano in linea con le previsioni dei gestori e sono oggetto ora di attento con i toraggi. Grazie Onorevole Albano. Onorevole Marattin, prego per la replica. Ci rispiamo di leggere perché è sempre complicato ma mi pare capire che stiamo a diverse centinaia di miliardi di esposizione ma la frase al solito che mi ha lasciato deluso è l'ultima. Noi abbiamo chiesto quante sono state escusse e voi ci rispondete ci stiamo guardando. Non le nascondo che avremmo preferito, così come ha fatto una puntuale esposizione sull'esposizione ed è comunque, stiamo parlando di centinaia di miliardi, se vi chiediamo quante sono state escusse ci aspettiamo una risposta, non tranquilli che stiamo monitorando. Ci mancherebbe che non le monitoraste, quindi non lo so se si può in articolo mortis avere la risposta. Quante garanzie sono state escusse cortesemente? Grazie. Lo diremo nel confessionale, no? No va bene e cercheremo di avere dati ancora più puntuali. Grazie Onorevole Marattin. Onorevole Centemero 501623, iniziative volte a superare il criterio di unicità previste per i piani individuali di risparmio, PIR, le dico in anteprima che io sono molto d'accordo con lei. Era una mia valutazione personale. Eccoci qua. Allora, semplicemente con questa interrogazione, alla luce della necessità di liquidità, che è testimoniata anche da quanto interrogato prima da collega Marattin, ma questo insomma ne parliamo sempre, si domanda se allo Stato il Governo sta portando avanti delle iniziative per superare l'unicità di possesso del PIR. Quindi se le risparmiatrici, i risparmiatori italiane e italiani possano per esempio possedere non più solo un PIR, ma due, tre e via discorrendo. Questo porterebbe maggiore liquidità sul suo sistema, considerato anche che la parte libera è la parte libera del 30%, spesso viene investita anche in BTP, quindi in debito pubblico, quindi si va verso lo spostamento del debito pubblico su retail, che mi sembra una linea seguita dal Governo. Il 70% comunque è investito su società italiane o che hanno una sede operativa in Italia, quindi andrebbe tutto a vantaggio nel sistema. Quindi la domanda è se si sta ragionando verso l'abolizione dell'unicità del possesso del PIR. Grazie, onorevole Centeno. Prego onorevole Albano. Grazie. La sottoscrizione del PIR implica l'applicazione di un regime fiscale agevolato, consistente in un'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dai strumenti finanziari della liquidità che concorre a formare il PIR e dall'imposta di successione relative agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento mortis causa. La prima modifica della disciplina PIR è intervenuta ad opera dell'articolo 1, commi da 211 a 215, legge 30 dicembre numero 145 del 2018, la legge di bilancio del 2019, la quale è modificato per i piani costituiti dal 1 gennaio 2019, l'ambito degli investimenti qualificati a fini PIR, introducendo due ulteriori vincoli alla composizione degli stessi. Tale disposizione si applica ai soli piani costituiti nel corso del 2019. Successivamente è intervenuto il decreto legge 26 ottobre 2019 numero 124, che nella sostanza ha definito il nuovo ambito degli investimenti qualificati a fini PIR per i piani costituiti dal 1 gennaio 2020. L'articolo 13 bis del decreto 124 è stato poi modificato dall'articolo 136 del decreto 34, convertito con modificazione della legge numero 77 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio, che mediante l'introduzione del comma 2 bis ha istituito un nuovo piano di risparmio a lungo termine, specializzato in investimenti in società non quotate e PMI quotate, il cosiddetto PIR e PMI, distinto dal cosiddetto PIR ordinario. La finalità di tali disposizioni è quella di introdurre una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti sia in capitali di rischio sia in capitali di debito nell'economia reale italiana, in particolare a favore delle società non quotate e delle PMI quotate, potenziando la capacità di PIR di coinvolgere il risparmio privato verso il mondo delle imprese. La legge 30 dicembre 2020 178 ha introdotto un'ulteriore agevolazione consistente di un credito di imposta sulle minusvalenze e sulle perdite realizzate sugli investimenti qualificati effettuati nel corso del 2021 e del 2022 e detenuti per almeno 5 anni. Tale misura è stata ulteriormente potenziata alla disposizione del decreto legge 104 numero del 2020, convertito nella legge 13 ottobre 2020 77 e nella legge 178 del 30 dicembre 2020, la legge di bilancio del 2021, che hanno istituito e introdotto alcune novità. L'aumento del limite annuale agli investimenti in PIR PMI, la concessione di un credito di imposta sulle minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati nei PIR PMI realizzate dalle persone fisiche e pertanto a legislazione vigente il regime agevolato per PIR PMI consiste quindi in un'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dalle attività finanziarie e dalla liquidità che concorrono a formare il piano, un'esenzione dalle imposte di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di un trasferimento martis causa, un credito di imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati sugli strumenti finanziari detenuti per almeno 5 anni relative agli investimenti qualificati effettuati nel corso del 2021 e del 2022. Al fine dell'ottenimento delle agevolazioni sono previste le seguenti condizioni gli strumenti finanziari di cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni, requisito temporale il piano si costituisce con la destinazione di un determinato ammontare massimo di somme o valori limiti all'entità dell'investimento pari rispettivamente a 40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi per i PIR ordinari e a 300.000 euro annui e milione e mezzo di euro complessivi per i PIR PMI. Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR ordinario e di uno più PIR PMI. Inoltre ciascun piano non può avere più di un titolare. La regola dell'unicità del PIR, prevista dal comma 112 articolo 1 legge 232 del 2016, la legge bilancio 17, è stata introdotta per evitare fenomeni speculativi in capo ai soggetti beneficiari della misura fiscale. Il rigore di tale principio di unicità è stato mitigato dall'articolo 1,27 della legge 234 del 2021, che è previsto un aderoga all'applicazione del menzionato articolo 1,112 della legge bilancio 17, in considerazione del fatto che tali piani sono rivolti in misura prevalente verso investimenti di imprese di piccola e media dimensione, per le quali le difficoltà di reperire ai finanziamenti sono sensibilmente maggiori. Il Governo, anche alla luce dell'evoluzione del mercato e nell'ottica di consentire una più ampia diffusione dello strumento, riserva di valutare un intervento che possa, superando l'impianto normativo attuale, dare un nuovo e maggiore impulso ai PIR, anche superando l'unicità dello strumento. Grazie. Prego, Onorevole Centemero. Sono molto soddisfatto della risposta, mi fa piacere aver ricevuto in questo senso. Bene. Non in articolo mortis, non in cauda veneno, ma beati gli ultimi perché saranno i primi, l'Onorevole De Palma con interventi per la corretta conservazione digitale di documenti fiscali. Gli ultimi sono sempre ultimi comunque e soprattutto perché devono sopperire l'assenza del proponente che era l'Onorevole Rubano. Sì, questa interrogazione fondamentalmente il tema è quello dell'utilizzo e della conservazione delle PEC in ambito fiscale e a tal proposito vi era stata una consuenza giuridica, una risposta dall'Agenzia delle Entrate rispetto a una consuenza giuridica il 30 agosto che riteneva non idonea alla firma elettronica semplice. Dal proposito abbiamo chiesto in questa interrogazione di conoscere quali sono, se l'Agenzia intende emanare specifiche istruzioni. Grazie Onorevole De Palma. Prego, Onorevole Albano. Grazie, Presidente. Si osserva al riguardo che i temi relativi alla conservazione digitale dei documenti informatici riguardano l'attività di tutti i soggetti pubblici e non solo dell'amministrazione finanziaria. Peraltro le disposizioni del decreto legislativo numero 82 2005, il codice dell'amministrazione digitale e le relative di guida contenenti le regole tecniche di indirizzo per l'attuazione del codice si applicano non solo a tutte le pubbliche amministrazioni di cui è l'articolo 1 del decreto 165 del 2001 ma per quanto concerne in particolare la conservazione dei documenti anche ai privati ove non diversamente previsto e dunque anche agli operatori che forniscono il servizio di conservazione dei documenti informatici. D'altro canto, in ipotesi di trasmissione telematica di un documento fiscale, ad esempio la dichiarazione dei redditi, si genera un documento informatico ai sensi dell'articolo 1,1 lettera P del CAD, secondo cui il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Anche i documenti fiscali soggiacciono dunque alla disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, in particolare alle disposizioni contenute all'articolo 43 del citato CAD e dalle regole tecniche adottate dall'AGID, le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottati nel mese di maggio del 2021 e il regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici adottato con la determinazione 455-2021, in vigore del 1 gennaio 2022, che definisce nuovi criteri per la fornitura di questi servizi. In ambito fiscale inoltre vengono delle regole peculiari non solo sulla modalità e sui tempi di conservazione dei documenti, ma anche in ordine alla relativa regolarità. In particolare è opportuno richiamare una parte della normativa, che qui cercherò di sintetizzare. All'articolo 2 del comma 1 del decreto amministratore finanze, da solo il titolo, del 17 giugno 2014, l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale e l'articolo 7 del decreto 357 del 1994. Ciò posto si evidenzia che ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 43, se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico di cittadini e delle imprese, che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso al soggetto che lo conserva. Pertanto anche l'Agenzia, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 43 del CAD, rende disponibili a cittadini ed imprese i documenti informatici di carattere fiscale, attraverso servizi online, accessibili per le identificazioni dell'identità digitale, di cui è l'articolo 64 del CAD, con le altre modalità previste dalla legge. Da ultimo si rappresenta che il servizio di conservazione digitale del fattore elettronico offerto dall'Agenzia delle Entrate e disciplinato dall'articolo 1,1 del decreto legislativo 127 del 2015, è conforme alle disposizioni normative sopra richiamate. Grazie, Onorevole Bano. Prego, Onorevole Palme. Ringrazio il sottosegretario, siamo soddisfatti della risposta perché era proprio quello che volevamo conoscere. Grazie. Grazie Onorevole De Palme, ringrazio tutti e chiudiamo qui la seduta di oggi. Grazie.